Buongiorno ragazzi, benvenuti, siamo qui di fronte alla ZTE Axon Elite, uno smartphone davvero interessante con le seguenti caratteristiche. Monta un processore Qualcomm 810 Snapdragon con 64 bit a 8 core, ha una fotocamera frontale da 8 megapixel, sempre nella parte frontale troviamo due griglie dello speaker, con lo speaker solo nella parte laterale, quindi una qua e una qui. In parte laterale troviamo il volume rocker, lo sportellino per la sim e la microSD, nella parte retro troviamo il fingerprint, due fotocamere, una da 13 e l'altra a 2 megapixel, doppio flash LED, se vedete qua dietro questa potrebbe sembrare pelle, in realtà è solo plastica, non so se si vede nel video, comunque l'effetto è davvero molto interessante. Nell'altro lato troviamo il tasto accensione e spegnimento, nella parte sopra il jack da 3,5, un microfono, nella parte sotto un altro microfono con la micro USB. Poi dimenticavo nelle griglie, abbiamo un hi-fi audio da 33 bit, una batteria da 3000 mAh, molto buona, poi troviamo 3 giga di RAM, uno schermo da 5.5 full HD, la fotocamera è capace di scattare e fare video fino a 4K, poiché altro monta Android 5.0 e crediamo che sia presto sul mercato la nuova versione di Android. Uno smartphone molto interessante, con un'interfaccia molto bella, aspettiamo al più presto di provarlo, un saluto a tutti da Spazio High Tech.